Dopo due pari consecutivi, la Teramo vuole tornare a vincere a Carrara per tenere il passo dell'Ascoli o per far contento Campitelli? Per nessun e due motivi. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, tranquilli, cercare di dare il massimo su ogni partita. Abbiamo analizzato la partita scorsa, abbiamo detto che abbiamo fatto delle cose buone, ma potevamo fare anche molto meglio. Quindi adesso stiamo preparando la partita di sabato contro la Carrarese, che è una squadra di tutto rispetto. Noi questo abbiamo in testa, poi le altre cose non ci interessano. Tra le Muramiche la Carrarese ha perso solo una volta? Sì, è una squadra importante, ha due attaccanti di grande qualità e di grande esperienza. Stanno facendo anche molto bene, loro sono partiti con dei pareggi, però poi gli attaccanti hanno iniziato a fare gol e si trovano a ridosso della zona play-off, quindi per noi è una partita molto molto importante da approcciare nel modo giusto, da curare ai minimi particolari. È una squadra che ha delle ripartenze veloci, giocano molto in verticali, e quindi dobbiamo essere prima di tutto molto molto concentrati ad evitare la palla sui loro vertici. Sta pensando a qualche variazione a centrocampo? Noi stiamo lavorando da diverso tempo, soprattutto a centrocampo, con la coordinazione giusta tra le mezzeali e tutta fascia, soprattutto per dare imprevedibilità al reparto offensivo, soprattutto in fase di chiusura, dove è chiaro che nel girone di ritorno le squadre adesso ci conoscono, la classifica che abbiamo ci porta le squadre avversarie ad affrontarci con la massima attenzione, la massima concentrazione. Dobbiamo assolutamente essere più imprevedibili in fase offensiva, perché noi la partita scorsa con la spalla si è verificato proprio questo discorso qui, che hanno marcato molto molto stretti i nostri due attaccanti e dobbiamo essere bravi a trovare delle varianti a questo.